Chi c'è scritto pollo? Dopo due anni di stop forzato a Montagnano è tornato il premio di teatro popolare Il Giogo. 11 giorni di spettacoli, premiazioni e buona cucina. Siamo ripartiti anche dopo due anni di covid in cui siamo dovuti stare fermi e insomma noi lavoriamo sicuramente per raggiungere degli obiettivi importanti. In piazza San Prospero gli spettacoli di teatro amatoriale che da più di 30 anni animano il paese. Sono sempre venuti gruppi da tutta Italia, abbiamo avuto anche rappresentazioni da gruppi europei con cui abbiamo fatto anche dei rapporti di gemellaggio e quindi insomma noi dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adice abbiamo avuto su questo palco sicuramente rappresentazioni svariate in questo senso. In scena domenica 3 luglio l'accompagna i tetranti di Grosseto con tanti amanti bis. L'aveva detto, l'aveva detto io Montagnano non ci vengo perché mi fa caldo e ecco il risultato. Non trovi Fabrizio? No, non si trova, provati accettato, non si trova. E comunque non mi fiderei. Non c'è uno sdoppiamento di personalità. Il gran finale è atteso invece per sabato 9 luglio quando verrà premiato il vincitore della rassegna e ci sarà un grande ultimo spettacolo.